buongiorno buongiorno ragazzi eccoci qui oggi per mercoledì 20 giugno anche oggi un'altra classe di c per tv partiamo con una parte di forza cerchiamo di costruire tre rep pesanti di stacco da terra ma con due secondi di fermo al ginocchio quindi cercheremo di scaldare bene la catena cinetica posteriore con delle flesso estensioni con il disco poi passeremo a del barbell yoga in modo da allungare sì ma scaldare tutta la parte della schiena da lì cominceremo a caricare il bilanciere cercheremo di fare molte rep a basso carico in modo da vedere bene la tecnica degli stacchi e la tenuta della schiena da lì poi cominceremo a salire a triple sempre mantenendo il fermo al ginocchio per cercare il nostro massimale sui tre colpi del giorno gli stacchi saranno parte cruciale anche del workout successivo sarà un 12 minuti time cap che prevede come base karen ma è in salsa un po particolare saranno 150 wall ball heavy quindi 15 kg per l'uomo 9 kg per la donna ogni minuto 5 deadlift a 120 si partirà dai deadlift anche qui le versioni scalate saranno molte in base alle preparazioni dei singoli quindi si passerà dalla wall ball più leggera a un carico sugli stacchi inferiore l'importante è mantenere set di wall ball abbastanza cospicui di almeno 20 rep per ogni minuto detto questo vi auguro buon divertimento e buona sudata buona giornata ragazzi